volevo presentarvi oggi la nuova versione 2020 del california nella versione ocean questo nello specifico è una versione che ha un sulla base un quattro note motrici come vediamo nella calandra frontale specificato ed una delle caratteristiche principali del california è comunque quella di avere la veranda esterna estraibile in questo caso è ancora ovviamente arrotolata per poter sfruttare tutto quello che uno spazio esterno con tavolini e sedie come accennato questa che abbiamo a disposizione una versione ocean che è caratterizzata dall'avere a disposizione una cucina completa composta di due fornelli centrali un piccolo lavandino con ovviamente un serbatoio d'acqua un frigorifero a pozzo ed un tavolino estraibile nella zona posteriore abbiamo l'alloggiamento per i vestiti quindi un piccolo armadio il california che avevo appena presentato rappresenta quindi un'ottima soluzione per una vacanza all'aria aperta non vi resta che quindi che contattarci per fissare un appuntamento posto nella nostra sede oppure per una videochiamata di presentazione un saluto a tutti Grazie 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 Grazie